Edelman è la prima agenzia di comunicazione integrata e indipendente al mondo, è una società americana e ci stiamo occupando di gestire tutte le relazioni con i media del progetto Obiettivo Terra, un progetto molto bello e che è assolutamente in linea con i temi abitualmente trattati da Edelman che si occupa di comunicazione a 360 gradi da più di 50 anni per aziende pubbliche e private e per interlocutori istituzionali anche su temi legati alla comunicazione ambientale.